L'endoprodisi che si aggancia prossimamente a questa proboscia e distalmente alla orta toracica in prossimità del diaframma. E questa è un'immagine età che fino a qua vediamo un po' di modo molto più chiaro. Quindi il paziente che è avuto sostituito appunto la orta scendente a arco, qui vedete appunto l'endoprodisi che si aggancia a questa proboscia, l'indacron, e giù appunto si posiziona all'interno della porzione di diaframmatica e all'orto torace. E queste sono le immagini che rendono ancora un po' di modo più chiaro il tipo di intervento per i proposci telefantrali, quindi posizionamento all'endoprodisi, per completare il secondo stallo sulla orta toracica. Ecco, direi che una novità importante in questo tipo di approccio appunto è stata dentro